La tigre del farweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Yook 4316 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio della Hardcore Un saluto anche alle due pirli, che bello Eeeh dal vacallo Ragazzi noterete con l'inventario vuoto, si Vi faccio vedere che l'è successo Ho sterminato la montagna Sono riandato con il mio amico cavallo Eeeh a prendere altra argilla nel posto quello lì lontano Poi ho raccolto un bel po' di legna Eeeh scavando anche la montagna ho raccolto un po' di roccia Ho trovato un po' di carbone eccetera eccetera e bla 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 Eeeh come notate ho messo a cuocere dei polli perché stavo finendo il cibolo E guardate ragazzi quanta argilla abbiamo Eeeh quanta cobblestone abbiamo che ci servirà Tatankete Quanta di questa roba abbiamo Legna normale eccetera eccetera E qua ragazzi guardate l'ambaradam della montagna Ok allora mettiamo a cuocere altra argilla 1,2,3,4,2,3,4,8 8 Dividiamoli in 8 Perfetto 8 qua 8 qua Tanchete mettiamo a cuocere il tutto ciò Almeno siamo a cavallo potremmo metterne addirittura altre 8 qua appena finiscono i polli Perfetto Allora Eeeh craftiamo tutto qui l'ambaradam l'ambaradattico Devo rifarmi altri attrezzi ragazzi perché ho finito veramente tutto Ho finito tutto Ho finito tutto Ho finito tutto Ho finito tutto Ho fatto una cacchetta Ho finito tutto E dai E dai Ok Craftiamo altri attrezzi Ok ho fatto anche un sacco di legna bianca come notate Perfect La legna bianca ci servirà Ok Mentre qua finisce di cuocere ragazzi io andrei a finire un po' il drentoli Vi faccio vedere come è venuto da dentro Oh la 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 Ah oh ragazzi mi ero dimenticato di mettervi la mappa in download nell'episodio scorso il decimo Ve la metto in questo contentoli Contentoli E un'altra cosa All'inizio puntata oggi non ho fatto il disegnino Se vi piace le direte i disegnini in ogni inizio puntata dicetemelo Che io continuo Cacchere su chest Ah perché scavando ho rotto tutto Comunque dovrei fare tutto il pavimento Eeeh trasformiamo un po' di legna Pam Trasformiamo un po' di legna E finiamo lo pavimentolo Ok E voilà In una giornata di minecraft Perché è arrivata quasi la notte Ho finito il pavimentolo ragazzi Eeeh Li stack di te Di legna se ne sono andati via tutti Di legna quella non lavorata Eeeh Meno male che ho fatto Che è bastata Ok ragazzi Abbiamo fatto il pavimento Ora il pavimento A me piace questa legna bianca Però potete farlo Del colore che voi volete Mettiamo un po' di torce in girolo Giusto per Stare più tranquilli Ok 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 Va bene Va bene Perfect Perfect Ora andremo a fare la nanna E continueremo Col fare qualcos'altro Dem Andem Io vorrei stoppare Ragazzi Pesti mosci Tipo questo Vado a casa A fare la nanna Un pezzo moscio Ma Vi ricordo Che essendo in hardcore Potrei morire Da un momento all'altro Per cui Soprattutto questi pezzi Di notte Ve li registro In modo che Se succede un patatrack Ho registrato Ok Ok Uccidiamo questo maiale Perché siamo a corto di cibo E Se vi ricordate Non sto più curando l'orto Anzi Quasi quasi andremo a vedere l'orto No dai No dai Ok La casa non prende forma Per il momento Perché è rimasta così Ma tra poco A breve Vedrete Permesso Dormem Ok Facciamo altra Argilla coloreta Qua cosa manca Ah Le ho messi male io Ok Sono pirlola Sono pirlola Perfect Facciamo un po' così Un po' così Un po' così Voilà Ok Ora abbiamo veramente Tanti cubi Qua ne ho messi altri a cuocere Qua 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 Perfetto Possiamo andare Allora Cosa facciamo oggi ragazzi Vorrei perlomeno Finire il tetto Come cosa minima Ma proprio minima 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 Finire il tetto E il pavimento è fatto E iniziare poi Così Il secondo pieno Ok Allora Facciamo un po' di torce Che siamo a secolo Ok Giuste giuste 3 3 Ok Allora Continuiamo appunto Con il tetto Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, il terzo è finito, abbiamo iniziato il secondo piano come vedete, ma ci sono due piccoli problemi. Primo, non inizieremo il primo piano, il secondo scusatemi, a parte che è noto di andare a casa, non inizieremo il secondo piano perché dobbiamo ancora terminare il primo, ossia il piano terra. E un'altra cosa, ho sbagliato il pavimento sotto, devo farlo sotto di un cubo per cui devo ritoglierlo tutto e ripiazzarlo sotto di un cubo. Ehm, lo farò con calma ragazzi, lo farò con calma perché veramente sennò poi impazziscolo. Allora, è notte, è notte fonda, è notte fonda, io devo tornare a casa, devo per forza tornare a casa, devo urgentemente tornare a casa. Ma qua manca una scala? Qui sì, manca una scala. Ecco, al contrario, nice! Vabbè, facciamo che la metto da sotto, no? Ok, devo correre a casa, devo correre a casa, di qua mi sa che sia la parte più veloce, credo, spero. Ora, ora, giro l'angolo e mi trovo un creeper davanti. No, non c'è nessuno, la la la, ciao Puffi. Andiamo a nanna! Allora, allora, prima di tutto, qua si tolgono questi due, perché se vi ricordate ho sbagliato, ho la tre, ok ho sbagliato anche qua. Nice. Allora, perché il pavimento va sotto di due, cioè va sotto di uno, scusatemi, porca loggia, il pavimento va qui, in poche parole. In poche parole, il pavimento va qua. Pam, questo dovrebbe essere tutto pavimento. No, che cavolo dico, questo è pavimento, sì, vabbè, sto sclerando. Oh, oh. Che cazzo? Nice, grazie, tanto devo scavare. Grazie, grazie. Madonna, ragazzi, che sto combinando? Che sto combinando? Vabbè, comunque, grazie, qua ci va il pavimento tanto. Grazie, amico. Allora, prima di tutto, ragazzi, finiamo tutto il sotto, ossia, lo facciamo identico, per cui, usciamo qua fuori, facciamo un po' di bastonciani, i bastonciani, sì, 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 i bastonciani, sì, sì, sì. Facciamo così, e facciamo così, e così, e così. Ok? Ok. E continuiamo a fare tutto, 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 tutto. E continuiamo a fare tutto. Ok, 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 ok. Abbiamo finalmente finito le mura, le mura di casa. Devo solamente abbassare il pavimento, e la la la. Questa, ragazzi, non è una stanza unica, perché qua dentro poi faremo tutti i separe, tutte le stanze, eccetera, eccetera, e bla bla bla. Ve lo vedremo alla fine. Ora, ragazzi, un'altra cosa da fare è, togliere qua, fare una piccola impalcatura, perché qui ci vorrà un'altra cosa, un'altra cosa. Facciamo una specie di impalcatura, una sorta di impalcatura, però mi servirà della terra, per cui andiamo a prenderla a casa. Tanto ne abbiamo da buttare. Ok, allora, andiamo qua e facciamo un'impalcatura, dove dobbiamo lavorare. Allora, a me serve l'impalcatura proprio qua, più o meno. Ok? Facciamo tutto così. Sopra la parte da lavorare. Ok, una volta fatta l'impalcatura, tra virgolette, allora, rompiamo questo che era sbagliato e rompiamo l'altro che era sbagliato. Qua dove c'era la legna. Ecco, come ti pareva che mancava la legna. Vado a fare un po' di legna. Ok, fatto un po' di legna, saliamo ancora. E, in poche parole, ragazzi, qua lo allunghiamo di uno. Lo allunghiamo di uno, e anche di qua. E facciamo una cosa del genere, del genere. Ci serve un altro di quello, altro di quello. Allora, 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 facciamo così. Togliamo l'impalcatura qui. Usiamo la paletta. Ok, e facciamo così, in modo da chiudere il tutto ciò. Ottimo, ora togliamo l'impalcatura anche qui. Forse l'ho fatta un po' troppo alta, vabbè. Mettiamo qui delle scalette. Allora, una lì, una qui, una qui. Le mettiamo così, a giro. Ok, ok. Andiamo avanti. Questo l'ho messo a storta, e te pareva. Sto finendo anche il piccone, no eh? No eh? Allora, così, 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 così. Lo mettiamo di qui e di qui. Voilà, abbiamo fatto la prima, la prima, la prima, la prima. Ok, ok. Dobbiamo togliere questa parte, perché è in eccesso. Ok? Questa parte va via. Ecco. E te pareva che io finivo il piccone. Porca loggia. Porca loggia, porca loggia. E c'eravo già la crafting table. Oh, ma ce la farò oggi eh? Ce la farò. La 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 la. Ce la farò. Ce la farò. Allora, togliamo questa parte qui, fino in fondolo. Ok. Fino. Vabbè, qua potrebbe anche rimanere, perché c'è l'angolo. Perfetto. E allora anche qui. Pam. Ok. Qua dentro ci mettiamo altri blocchi di questi. E ok. Poi facciamo la seconda, in questo modo. In questo modo. E poi lo facciamo anche su. Vediamo eh, così. Voilà. E di là. Fino a salire, diciamo. Diciamo fino a salire. Mettiamo la terra. In modo che cambia il colore. E poi mi ricordo dopo. Ok? Ok. Andiamo ancora su. Pam. Vabbè, ho sbagliato. Tanto poi lo togliamo. Poi andiamo su anche di qua. Per cui facciamo così. Voilà. Et voilà. Poi. Ne mettiamo altri due. Uno qua. E di là. Et voilà. Abbiamo fatto una sorta di cupola. Ok. Ok. Togliamo le parti anche qui in eccesso. Tipo questo. E tipo. Che schi. E che schi. Giusto? Giusto. Anche di là. Ok. Ora sta arrivando anche la notte. Ora. Arrivati a questo puntolo. Abbiamo fatto questa parte qua. Dobbiamo modellarla, diciamo. Allora. Proviamo a fare così. Abbiamo fatto di due. Io toglierei quei. Allora. Li lascerei di uno a questo punto. A parte che lo facciamo lungo tre. Ok. Lo facciamo lungo tre. O. Oppure. Vediamo un po'. Qua esce dal legno. Yes. Esce dal legno. Per cui lo facciamo lungo tre di qua. Voilà. 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 No. Qua era giusto però. Pirletta. Qui era giusto. Ok. Porca trota. Che sto combinando. Che sto combinando. Come faccio. Ok. Qui era giusto. Devo solo girare qua. Pam. Ok. Poi facciamo qua. Ne va' affanchiul. Va' affanchiulo. Facciamo là. E là. No. Sono pirla. Qui non serve. Non serve neanche il primo. E neanche quello lì. Ok. Sto combinando mezzo casino ragazzi. Ma è giusto. Fidatevi. Perché. Cerchiamo di modellarlo. Dobbiamo fare un pochettro. Una fila sì e una fila no. Ok. Qui. Poi facciamo anche sotto. Uguale. Pam. E pam. E anche di là. Uguale. Ossia. Quella. 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 Questa. Pam. E ok. Giusto. Giusto. Ok. Ora non si vede un po'. Non si vede troppo. E non si vedrà neanche dopo. Tanto ragazzi. Però fidatevi che. Ehm. E' così. Ora. Togliamo un attimo la. Una parte di impalcatura. E più o meno. Questi due al centro. Io li girerei al contrario. In questo modo. Uno. E uno due. Giusto. Per dare quell'idea. Tancate. Poi. Vediamo che fare. Allora. Intanto. Qua potremmo anche toglierlo. Volendo. E metterlo al contrario. Giusto. E fare un po' e un po'. Pomma. E anche. Cioè. Loro sono pirla. No no. Ditelo. Sono pirla. Sono coglione. No pirla. Coglione. Ok. Abbiamo detto. Questo qua. Ho fatto l'impalcatura. Messa male ragazzi. Mamma mia. Ok. Poi. 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 Abbiamo delle cose. Sì. Le abbiamo. Le piazzerei qua. In questo modo. Là. Si collega sopra. Sì. E anche qua. Allora. A questo punto. E poi userei ancora un po'. Di colorante rosso. Per esempio. Qua. E qua. Mentre là dietro però rimarrebbe vuoto. Allora metterei un blocco di cobblestone. Giusto per riempire. Là. Là. E qua potremmo chiudere come vogliamo. Come ad esempio. Sento scheletri. Come ad esempio. Ad esempio. Ad esempio. Così. Ok. Vediamo un po'. Eh. Dovrebbe essere venuto. Allora. Mettiamo una torciola. Potremmo mettere della glowstone. Per il momento mettiamo delle torce. Giusto. Per fare una sorta di luce. Ok. Togliamo l'impalcatura. E direi di andare a casa. Mmm. Vediamo ragazzi. Non so. L'effetto notturno. Vediamo un po'. Com'è venuto. Eee. La pepina di Mallorco. La la la. La pepina di Mallorco. Che schifez. Ok. Dobbiamo mettere delle luci. Cambiare l'entrata. Logicamente che fa schifo. Poche parole ragazzi. L'effetto dovrebbe essere. Non lo so. Eh. L'effetto stile capanna. Perché poi faremo anche degli altri lati. Negli altri lati ne faremo addirittura due. Poi farò vedere. Devo rifare quella cosa lì in fondo. E direi che per oggi è tutto. Andiamo a fare la nanna. Prima. Di saluterci. E vediamola appunto anche di giorno. Ok. Magari poi cambiamo quella colonna. Perché non mi sta piacendo adesso. Quella. Aia. Aia. Scheletro. Aia. Che bot. Che legupre. Non mi piace tanto il tetto. Magari poi cambieremo. Boh. Bisogna vederlo ragazzi. A tempo finito. Quando è tutto finito. Da lontano. Bisogna vederlo. Ok. Allora. Qua togliamo. Perché non mi piace l'entrata. Dovrò cambiarmi tutto il pavimento. E che dirvi ragazzi. Ci vediamo. Al prossimo episodio. Un bacione e un abbraccio come al solito. Ricordate il pollice in su. E la condivisione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.